Vorrei fare una riflessione su quanto è accaduto ieri quando abbiamo parlato del bilancio della Camera dei Deputati. Ieri ho presentato un ordine del giorno che mirava la sostenibilità ambientale di questo ente pubblico e come questo ce ne erano circa altri cinque su questa linea. Sono stati accolti senza però spendere nessuna parola nel dibattito parlamentare, perché il dibattito si è concentrato su altro. Abbiamo parlato del decoro dei parlamentari, gli uomini devono indossare la giacca, la cravatta, se le donne possono indossare le scarpe da ginnastica. Non ricordo però da ottobre ad oggi di aver visto persone vestite in maniera indecorosa, quindi credo che abbiamo sostanzialmente parlato di aria fritta. In secondo luogo abbiamo parlato degli stipendi dei parlamentari ed è stato addirittura presentato un cedolino. Allora, sinceramente non ci ho visto più, perché non solo non stiamo parlando del nulla, ma addirittura siamo arrivati a parlare di cose fuori dalla realtà. Vi voglio mostrare quindi il cedolino di un medico specializzando in medicina di emergenza e urgenza. Parliamo di circa 1.650 euro al mese, con cui deve fare notti, festivi, straordinari non pagati, non ha il TFR e non ha nemmeno la tredicesima. E quindi con questi deve addirittura pagarci le tasse universitarie, senza considerare poi le responsabilità che ha un medico, perché un medico ha tra le sue mani la vita delle persone. E con circa 1.650 euro al mese deve tirare avanti. Allora io dico, è anche giusto che magari i parlamentari abbiano uno stipendio decoroso, ma che almeno si occupino dei problemi reali delle persone. Emergenza ambientale, difesa del servizio sanitario nazionale, reddito di cittadinanza, salario minimo, e non delle scarpe da ginnastica. Grazie.